ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo nuovamente sulla change perché perché andiamo a vedere come prendere l'asino l'asino è un mezzo importantissimo per fare le trade che sono delle diciamo un'attività di gioco che ci consentirà di fare anche parecchi soldi al costo di pazienza tanta pazienza iniziamo andando a mariannopol nella hall principale e parlando con questo tizio qui ci dà the basic of trade questa sotto invece un'altra cosa che ci spiega un'altra feature del gioco ma non interessa ora andiamo a fare questa questa cosa questa missione dobbiamo andare di stone plain e parlare col community center quindi prima cosa andiamo a di stone plains dovrei averle già qua possiamo metterle in ordine così vediamo no purtroppo sono molto 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 sfortunato non ce l'ho mi ci recherò da solo di stone plain si trova esattamente qua quindi è a nord e dove c'è il community center quindi ci vado e ci vediamo tra pochissimo vediamo intanto se l'unica è la zona più veloce da cui posso andare e direi che è così quindi insomma ci richiamoli immediatamente ed eccoci arrivati all'inconfondibile edificio che è il community center andiamo a parlare con il tizio qui che ci dà vabbè queste missioni in violetto sono missioni giornaliere ma noi andiamo a prendere questa e ci fa scegliere direttamente un asino io non lo so ho già il coso bianco lo prendo bianco perché prendendo più creature tutte dello stesso colore c'è la possibilità di fare un achievement che ci dà praticamente una cassa perché non provi a craftare una di stone fine gilda specialty ok ora praticamente parte che siamo livellati però allora in pratica lui ci ha dato questo asino l'asino può essere posizionato e fatto crescere con un vita seed quindi quello che dobbiamo fare ora è andare a far crescere il lozza il l'asinello allora abbiamo appena scelto il nostro asino ma l'asino va fatto crescere per farlo crescere bisogna andare o in una farm se ne possediamo una in un campetto nostro quindi quello che abbiamo preso la volta scorsa se l'abbiamo piazzato lo possiamo mettere lì oppure premendo m andiamo qua in alto e vediamo mettendo togliendo che qua vedete lampeggia scompare in quel punto lì qui c'è una public farm la public farm ci consente di far crescere il nostro asinello ma allora praticamente bisogna comprare da i vendor il seme dal seed il venditore di seed il vita seed il vita seed cresce in tempi brevissimi quindi lo andiamo a piantare ovviamente qua ci dice che non lo possiamo piantare qui perché si può piantare solo in alcuni punti del soprattutto le farm private quindi vediamo se riusciamo a piantarlo qua fuori ok non si dovrebbe fare una cosa del genere però lo piantiamo all'esterno il vita seed cresce in circa 30 secondi dopodiché andiamo nella farm pubblica e facciamo crescere il nostro asino questa è una parte mancante secondo me del tutorial perché ci mette in mano l'asino e ci dice vai e fai questa rotta di trasporto che appunto una delle cose che vedremo in più in questo tutorial oltre come ottenere l'asino come utilizzarlo e a che cosa serve e soprattutto che cosa sono le trade ora raccogliamo il vita seed che è quello che ci serviva infatti lo abbiamo importantissimo per la crescita di qualsiasi mount che il gioco cederà di di allevare ora andiamo qua piazziamo l'asino no non me lo fa fare nemmeno lì quindi niente errore mio proviamo a metterlo nella farm pubblica a questo punto col tasto f alla fine ci fa carezzarlo parlargli così gli diamo da mangiare quindi a questo punto andiamo lì gli diamo il vita seed a questo punto ci sarà da aspettare un po manca da dargli dell'acqua l'acqua la trovate nel pozzo anche sempre nelle vicinanze della farm ok vi ho preso 5 d'acqua che dovrebbe servirci a breve ora attendiamo ok abbiamo atteso questi 30 secondi che erano gli diamo l'acqua che vedete qua ce ne consuma uno e a questo punto si festeggia perché l'asino lo stiamo lavando e poi l'asino sarà ufficialmente nostro e diventerà una mount ufficiale infatti ok ci sarà adesso da attendere qualche secondo e vedrete che crescerà come come dimensioni diventerà un asino effettivo l'asino a che serve e lo stiamo per andare a vedere ora ora parlo ok si festeggia perfetto si balla e l'asino entro qualche secondo scomparirà ed entrerà nel nostro inventario noi prenderemo a metterlo in uno dei tasti veloci qua in alto l'asino cosa serve adesso vi faccio vedere subito vedete questo è l'asino lo prendo ok e poi vabbè lo metterò in uno delle cose veloci qua le barre veloci qua allora come vedete la mia cavalcatura va a questa velocità e poi può correre mentre invece vado a toglierla prendo l'asino e l'asino che cosa fa va non può correre a livelli più avanzati può prendere la carota e andare veloce ma in realtà quello che ci serve lo scopriremo tra pochissimo ora dobbiamo assolutamente tornare nella location che abbiamo sbloccato che io prima non possedevo ma adesso avendola visitata ce l'ho la diostone plain community center apriamo un portale andiamo lì e completiamo la quest perché è abbastanza macchinosa questa quest e non ci dice esattamente cosa fare infatti un gioco potrebbe spingervi a fare il trasporto a piedi e a piedi è veramente una cosa lunghissima allora quello che facciamo ora è andare in tasto m e vedere perché anche qui il tutorial non ci guida proprio pieno e dobbiamo andare dove c'è la allora vediamo come si chiama dovrebbe chiamarsi la workbench che è qua sotto specialty workbench vedete che è là in fondo ok perché quello che si deve fare ora è craftare un fine gilda specialty sono delle diciamo chiamiamole specialità locali che noi portiamo esportiamo in altri territori e l'aspetto di questa workbench è sempre l'aspetto di una slot machine quello che ci dice di craftare è un fine gilda specialty allora vediamo un po diostone fine gilda specialty che ci chiede questi e questi in realtà qua il gioco non ci chiede non non ci dice come procurarci avrai bisogno di ground grain voler gilda star ovviamente va a riprendere delle vecchie conoscenze che avevamo in pratica ci dice che se raccogliessimo riso e o grano e li tagliassimo col tasto destro come avevamo visto nelle nel tutorial di alchimia otterremo come in questo caso vedete andiamo a tagliarli ma non sono quelli che ci sono richiesti perché in pratica ci chiede riso o grano per ottenere questi mentre tagliando questi otterremo i fiori secchi ci chiede quelli ci chiede 2 gilda star ci chiede 10 di lana quello che facciamo in questo momento è recuperarli quindi se voi avete qualche soldo da parte avete messo qualche soldo da parte li potete comprare all'asta in caso contrario il gilda star li avete sicuramente e diciamo che si possono anche prendere io li avevo messi via quindi magari me li vado a prendere me ne prendo uno così ne ho due e non mi pare ad avere gli altri in quindi in caso adesso vado premendo p e mi ricompro quindi la lana vula che non mi ricordo quanti ne voleva però va bene compro sono decina ok che costa veramente poco vi faccio vedere anche come funziona la via più veloce del gioco e la poi se avete il dubbio e non avete lì potete andare qua premendo o deuston fine gilda speciali speciali ci dice dove si fa 300 ok 10 2 300 si fa al deuston plain speciality workbench quello lo so 300 quindi ne abbiamo me ne servono 2 270 allora p ground grain che è quello lì me ne servono 300 quindi vado qui 270 quindi 100 150 8 gold comprati comprati ho fatto 10 aste finora insomma me li vado a prendere e riesco a craftare quello che mi ha richiesto la questa fine gilda speciali quindi fine gilda speciali lo crafto ora spenderete 180 labor che non sono pochi per un crafting perché generalmente un crafting chiede 5 o 10 labor quando chiede 180 però ora abbiamo craftato l'oggetto della quest e dobbiamo consegnarlo la logica adesso l'utilità dell'asino è ora perché vedete che a che velocità camminiamo vedete che cosa succede se saliamo a cavallo andiamo praticamente ancora più piano in questo caso entra in gioco l'asino che abbiamo appena fatto nascere ora e che abbiamo così viaggiamo velocemente vi consiglio di tenerlo spesso quando fate le quest uccidete mostri tenetelo lì a fianco a voi invece del cavallo perché più fate esperienza più sale e a livello 20 potete avendo delle carote nello zaino far questo ogni tot e lui inizia a correre il 30 per cento più veloce quindi ora dove ci porterà la quest la questa ci porta lontano molto lontano perché ci porta a two crowns che è noi da qui dovremmo andare qui quindi attraversare tutta la città mariannopol arrivare qui e arrivare qua ok ora io vi risparmio il viaggio però intanto prima di saltare e andare direttamente alla fine vi dico due cose allora sono bene o male sicure le zone salvo che non passate in zone rosse dove qua possono se più andate lontano a consegnare ci sono dei siti che vi dicono quali sono le più redditizie ovviamente più le portate lontano dovete portarlo un buyer quindi da qua cercate quello che si chiama specialty buyer che dovrebbe essere qui specialty buyer questi qua più lo portate lontano più ve lo pagano ovviamente più è alta la richiesta di crafting soprattutto se usano anche gilda stara vuol dire che sono veramente di valore quindi più le portate lontano più guadagnate più avanti poi vedremo anche la quest del carretto il carretto ci porterà da prima due di questi pacchi quindi potremo craftare due poi quattro poi sei fino a otto massimo quindi calcolate che vi costerà un botto in termini di labor point per craftare tutto ma anche intanto già salito di un livello l'asino ma vi daranno un sacco di soldi i soldi non ve li danno subito ma vi vengono recapitati dopo otto ore via posta in gioco ovviamente quindi insomma questo è un metodo di guadagno che potete fare a tempo perso quando magari state chiacchierando con amici in discord in team speak insomma o lo fate in gilda o lo fate con altri che fanno viaggio con voi intanto fate due chiacchiere però è una è comunque una professione una proficiency perché è su la trovate con k proficiency su commerce quindi più la fate salire meno vi costerà più vi darà esperienza facendola e è un modo di guadagno come un altro ovviamente potete trovare quella che più si confa le vostre richieste le vostre risorse e magari potete iniziare a imbastire ecco quello di un carretto da otto vedete lo sta trasportando sta arrivando chissà da dove è un giocatore quello e lo sta trasportando e dicevo più andate lontano in questo caso noi potremo andare a to crown la questa è qui ci paga un tot ma se andassimo fino al cinder storm moore pagate di più tra l'altro mi hanno detto poi non sono completamente sicuro ma se ci arrivi ed è notte guadagni anche di più il problema è che qui sono zone in cui comunque il pvp è aperto in certi orari quindi se incontri qualcuno e quel qualcuno ti uccide tu lasci il pacco a terra poi ovviamente se hai lì il carretto così hai giù otto pacchi ci vuole un bel momento perché li porti via tutti quindi però lo faranno soprattutto per farti perdere tempo e per darti una scocciatura quindi insomma questa è quanto è la spiegazione ora finiamo andiamo a consegnare questa questa vi do un piccolo consiglio quando arrivate a to crown con proseguite sulla strada principale non prendete queste viuzze vedete là dove c'è quell'edificio e dove dobbiamo andare e il metodo più semplice invece che seguire la strada è tutto dato che se qua siete di livello 30 36 troverete mostra intorno a livello 30 non è il massimo tagliate da questa viuzza qui vedete è la dove dobbiamo andare a consegnare e quindi poi io vi consiglierei di proseguire in questa direzione e poi tagliare di là ora vi dico due cose prima ancora di concludere ho fatto vi ho fatto vedere proprio il metodo più rapido per fare il l'asino in realtà se voi continua continuate la quest che avete fatto che ho fatto nel precedente tutorial dell'alchimia proseguendo con le quest iniziate la quest per il carretto il carretto di fatto rende inutile l'asino però è una quest anche quella che tratterò che abbastanza come questa abbastanza priva di di grosse spiegazioni e infatti non vi dice che alla fine per farvi per completarla dovete farlo il carretto il carretto ha delle componenti molto costose quindi è meglio magari interrompere fare questa prendendola da marian opel e iniziare a fare un po di soldi anche perché richiede dei componenti abbastanza costosi tanto legno un legno diciamo colpito non fulmine insomma lo vedremo comunque ora arriviamo qui e lo diamo al cargo buyer lo special t buyer scusate che la cargo è un'altra cosa che avete visto nei video gameplay non nei tutorial qua vedete potete venderlo e ci da 34 gold che non è male calcolando che non abbiamo speso abbiamo speso un po ok ma se vi fate i materiali non è male se poi ne trasportate due col carretto oppure fate più viaggi insomma sono già 70 ok completato e avete concluso la quest ora dobbiamo fare il report a questa signora qui che ci completa la quest e quindi abbiamo visto che cos'è il qua vi fa vedere un pochino il valore delle varie componenti cioè ad esempio delle varie trasporti esempio se fate da solzer it la luxury special t solzer it solzer it è qui è una delle più economiche da fare quindi fate tutto questo viaggio fino qua vi paga pochissimo vi paga 11 gold quindi potete andare a notare che le più pagate sono il cinderstone pack il grey on it pack di un certo tipo perché richiedono spesso anche gil da stare sono cose abbastanza costose però sono 79 gold ripeto c'è un sito che vi fa vedere quelle cose che valgono di più la differenza tra magari partire da qui piuttosto che da qui vi cambiano 3 gold partite da qui risparmiate un attimino di viaggio insomma comunque queste sono le trade che è un altro modo di guadagnare soldi a questo punto niente qua non potete graffattare nulla infatti non c'è la macchina la workbench delle special t ma se le volete fare la macchina delle special t qui non so onestamente dov'è ma il gioco vi viene in aiuto perché potete cercare ovunque special t dovete fate lampeggiare mi pare forse lì sì sì qua lampeggia qua quindi da qua potete fare delle cose se volete guadagnare di più ripeto proseguite persi in the storm moore però è una zona piuttosto frequentata questa da anche personaggi rossi quindi dell'alto continente quindi a vostro rischio e pericolo il tutorial sulle trade su come ottenere l'asino si conclude qui ovviamente vi chiedo sempre di farmi sapere che cosa ne pensate se volete che io continui questa serie di tutorial la ringrazio ancora la gilda per il avermi motivato a fare questa serie di tutorial in italiano che attualmente non esistono e alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao